Firmato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Consorzio Cooperative Lavoratori CCL, un protocollo di intesa per promuovere la cooperazione abitativa e il commercio di vicinato. Una città dei 15 minuti sempre più concreta attraverso convenzioni tra le attività commerciali e gli abitanti della cooperativa, ma anche grazie all'insediamento delle attività commerciali all'interno di appositi spazi attrezzati dei condomini di CCL per offrire un servizio di prossimità ai residenti. L'accordo è uno strumento importante perché ha l'obiettivo in via sperimentale di verificare se ci sono delle condizioni affinché un imprenditore o un'attività commerciale possa svolgere la propria attività all'interno di locali con dei canoni calmirati. C'è un duplice ragionamento che abbiamo fatto, da un lato di far conoscere le realtà esistenti di commercio, di vicinato, laddove noi abbiamo le nostre iniziative cooperative per i nostri abitanti che abiteranno poi appunto in quelle strade, in quei quartieri e dall'altro costruire insieme delle opportunità magari anche sfruttando i meccanismi degli spazi convenzionati al piede dell'edificio per far sì che possano nascere anche nuove attività commerciali. Sostanzialmente una collaborazione che va sempre nell'ottica pubblico-privato ma collaborazione anche tra privati nell'interesse delle imprese e dei cittadini milanesi.